E eccoci qui ancora da Claudio Simeoni che porta avanti il programma Magia, Stragoneria, Paganesimo, seconda parte, dedicata alla lettura del libro dell'Anticristo. Prima di parlare del libro dell'Anticristo, allora intanto mi hanno chiesto di precisare la mia presenza in radio. Io giovedì prossimo sarò in radio, ma non sarò in radio alle ore 15, purtroppo ho un impegno al quale non posso assolutamente mancare. Sarò in radio però alle ore 19, da 19 alle 20, non so dopo come verranno sistemati i palinsesti della radio, però dalle 19 alle 20 sarò in radio giovedì prossimo e non farò il libro dell'Anticristo, non farò la lettura, ma... Ciao Mario, ci vediamo. Anche la vai e te parli che non è. Ah, dai. Allora, ci vediamo la prossima. Ah sì? E' tocca a feo. Farò le prime due trasmissioni che avevo fatto a novembre dell'anno scorso, le primissime due. La trasmissione di presentazione e il significato di alcuni vocaboli che noi usiamo più frequentemente. Così se qualcuno... Devo salutare Tamiso. Tamiso, ti ringrazio della cartolina. Siccome escevo sempre... Dai, dai, sforo un attimino. Scusate, non te... Vai, tranquillo. Te davo tutto il gioco, vai, che altro gioco, vai, cosa cosa che... Te puoi fare gli anni 40. E ora, Tamiso, ho detto tutto e... Te davo ragione, ti dà me la ragione a me, quindi siamo a posto. E con rispetto, anche se non ho la stessa squadra del cuore. Va bene, dai, ciao. Vabbè. Farò le prime due trasmissioni di presentazione. Per cui se qualcuno perderà o salterà la trasmissione non ha nessuna importanza. Se qualcuno magari ha del tempo, riscolta le vecchissime trasmissioni. Ciao, Mario. Per cui io, giovedì prossimo, sarò in radio dalle 19 alle 20. Sicuro questo. Un altro discorso, noi stiamo finendo il discorso dei paganesimi. D'alcuni piccoli paganesimi, da cui estraiamo i principi. I principi andranno a formare due canti del mondo. Degli altri due canti del mondo, anche se non ve ne ho parlato esplicitamente, ve ne ho già accennati. Per cui, quando finiamo i paganesimi, arriviamo a formare i quattro canti del mondo. Poi vi spiegherò esattamente cosa sono i quattro canti del mondo. E svilupperemo il crogiolo all'interno dei quattro canti del mondo. Cioè il crogiolo dello stregone, di cui abbiamo già parlato, lo svilupperemo all'interno dei quattro canti del mondo. Dopodiché faremo le relazioni fra i canti, ma questo andrà molto pericolo. Da lettura del libro dell'anticristo, questa sera, parleremo sole e pianeti come esseri viventi. Vi ricordo che stiamo facendo la quarta parte del libro dell'anticristo, il quale, la quarta parte, va a definire l'anticristo e il mondo circostante. Cioè la pittura, la visione del mondo circostante visto dal punto di vista dell'anticristo. Dal punto di vista del cristianesimo, dal punto di vista del Cristo dei cristiani, il mondo circostante è creato d'opera di Dio e è a disposizione degli esseri umani. Cioè Dio l'ha creato per gli esseri umani. Secondo la visione dell'anticristo, invece, il mondo circostante ha le sue determinazioni, ha le sue peculiarità, ha il suo modo di essere e la sua coscienza. Sono chiaramente due visioni assolutamente opposte e antagoniste. E queste due visioni opposte e antagoniste adesso vediamo sole e pianeti come esseri viventi. Il tentativo delle religioni deiste di mettere l'incondizionato o l'essere supremo all'inizio del caos cosmologico e spesso, prima ancora, come creatore del caos, fu il tentativo di strappare il Dio dall'empirio dei sensi per trasferirlo in idea trascendentale della ragione, in modo che il comando sociale fosse l'unico arbitro della sua morale attraverso la quale determinava i comportamenti nei vari sistemi sociali adattandoli alle proprie esigenze di controllo dei sistemi stessi. Il passaggio dell'essere umano attraverso il credere, anche se lo schema non è in sé reale, può essere riassunto attraverso queste fasi. L'essere umano vivente in sé, all'interno della natura, l'essere umano costruisce la ragione, percependo coscienze di sé gigantesche e costruisce con esse un rapporto dialettico, l'essere umano radicalizza ulteriormente la ragione, percependo coscienze di sé più gigantesche della sua e con esse stabilisce un rapporto di sudditanza, l'essere umano radicalizza ulteriormente la ragione, stabilisce un comando sociale, il quale tende dapprima a gestire il rapporto sistema sociale e coscienze di sé gigantesche e, non riuscendovi, trasforma il concetto derivato dalla sudditanza in idea trascendentale della ragione. Dio come espressione della filosofia Questa operazione, formulata in un lasso di tempo di 15.000 anni circa, data presunta sia da indagini storiche e dell'evoluzione della storia umana, sia dall'intervallo fra i grandi allineamenti planetari all'interno del sistema solare, l'ultima fase si è sviluppata negli ultimi 3.000 anni circa e anche questo, proiettato, può chiarire il tempo della trasformazione. Mi riferisco sempre alle civiltà dell'area mediterranea. Più complesso diventa il discorso dove il comando sociale non fu mai in grado di radicalizzare il proprio controllo sul sistema sociale. La difficoltà è di ordine sociale per arrivare a determinare l'esistenza di coscienze di sé diverse da quella dell'essere umano e, nonostante questo, non si è più in grado di percepirle in quanto tali, stabilendo una relazione esistente fra queste e l'essere umano. La prima cosa su cui portare l'attenzione è il concetto secondo cui l'esistente esiste per adattamento soggettivo alle variabili oggettive esistenti. Nessuno dà risposte al di fuori del suo essere e dal mondo entro il quale vive. Comprendere come un uovo sia vivo ed escogiti un rapporto con il mondo circostante è di una difficoltà immane per la ragione umana. La sola ipotesi di una tale eventualità la sconvolge o meglio, sconvolge il suo condizionamento educazionale dal quale è solita dedurre che solo l'essere umano adulto esercita la propria libertà e di interazione col mondo circostante. La ragione umana è stata addestrata a porre l'essere umano al centro dell'universo perché così gli ha imposto il comando sociale, assoggettata dal comando sociale stesso e all'essere supremo il quale, alla coercizione del comando sociale, concede credito e giustificazione. Parlare di un uovo, come di una coscienza di sé che esercita un rapporto dialettico col mondo, la cova, procedendo nel proprio divenire attraverso lo sviluppo della coscienza di sé in spazi e determinazioni più ampie, provoca convulsioni e reazioni assurde alla coscienza di sé dell'essere umano. L'abitudine di alcuni monaci buddhisti di chiedere perdono per gli insetti galpestati inadvertitamente durante il loro camminare oppure pratiche vegetariane per non contribuire a sopprimere altre vite come se i vegetali non fossero altre vite sono relazioni istintuali di chi, percependo i viventi sia formati che in formazione come coscienza di sé, tende ad estragnarsi per non recare il loro danno. Pratica assurda in quanto ogni specie paga il proprio tributo per il proprio esistere all'insieme della natura. Una specie non dominerà mai il pianeta. Ma perché questo tipo di reazioni? Perché l'essere umano è condizionato dal comando sociale a pensare in termini di sopra e sotto ciò che è in alto e ciò che sta in basso ciò che comanda e ciò che obbedisce ciò che determina e ciò che è determinato. Il comando sociale per fissare il proprio controllo sugli esseri umani dovete instillare loro il senso della gerarchia alla quale sottomettersi o inserirvisi. Ciò sembra avvenga sempre fra esseri circoscritti o costretti con la forza fisica alla coabitazione avviene anche tra le galline all'interno del pollaio. Concepire un essere come una coscienza equivale a riconoscergli delle determinazioni anche nei confronti dell'essere umano. Questo per una ragione condizionata nel procedere alla modificazione del mondo attraverso l'esercizio della propria libertà senza quasi nessuna considerazione per l'esistente diventa un'offesa eppure per una certa analogia potremmo dire che anche un fiume nel suo procedere dai monti al mare potrebbe essere convinto di determinare il proprio moto in ossequio all'esercizio della propria libertà. Non gli da forse piacere procedere in quella direzione? Quanto gli sarebbe assurdo procedere in maniera diversa? Eppure la sua libertà nell'esistente è espressione delle proprie condizioni determinate e il suo esistere è determinato dal proprio essere e dalle condizioni dell'oggettività la quale a sua volta determina il suo essere come soggetto esercitante la libertà del proprio esistere. La libertà del fare funzionale allo sviluppo del potere di essere degli esseri viene esercitata sempre all'interno della propria specie. Il comando sociale dovete impiegare migliaia di anni per convincere l'essere umano di essere stato creato a immagine e somiglianza di un Dio il quale a lui e solo a lui ha concesso la gestione del pianeta. Da molte parti si obietta sul comportamento dell'essere umano il quale starebbe saccheggiando il pianeta mettendo in pericolo l'esistenza della natura. In realtà l'essere umano sta facendo esattamente ciò per cui si è evoluto o se vogliamo ciò per cui la natura ha favorito le condizioni affinché egli si evolvesse. Se il suo agire ha delle determinazioni oggettive che andrò ad elencare per quanto mi è possibile comprendere l'agire di una parte dell'essere umano nei confronti dell'essere umano stesso determina il vero pericolo per la specie. Questa tende ad esternare gli stessi comportamenti e modi di essere determinati dal condizionamento educazionale imposto nel corso dei millenni dalla struttura del comando sociale. Il comando sociale si atteggia come componente naturale nello sviluppo e nell'evoluzione della specie umana. Questa anomalia belungi dall'essere deleteria per la natura nel suo insieme rappresenta un elemento di gravità estrema per la sopravvivenza della specie umana. Veniamo ai motivi per cui la specie umana è venuta evolvendosi o meglio trovò condizioni favorevoli al proprio sviluppo. Da alcuni miliardi di anni su questo pianeta per le sue condizioni soggettive e in rapporto all'oggettività circostante è venuta sviluppandosi una situazione di mutamento continuo chiamata della natura. Questa è un insieme di esseri rappresentanti un tutt'uno all'interno di un equilibrio di rapporti aventi come scopo il miglioramento delle condizioni entro le quali svilupparsi. All'interno della natura ogni cambiamento è compensato da un altro cambiamento avente come scopo il riequilibrio della natura e dei rapporti fra le singole specie. La natura intesa come insieme di esseri viventi come ciò intende la ragione non è una cosa in sé ma è sottoposta a due condizioni assolutamente necessarie ed alcune che pur non apparendo subito necessarie sono comunque tali. La prima di queste determinazioni è il pianeta sul quale la natura si è sviluppata la seconda è il sole. Il rapporto fra queste due condizioni permise lo sviluppo della natura la struttura base come i componenti fondamentali della vita fisica acidi sono presenti comunemente nell'universo e sui vari pianeti strutture simili sono state ritracciate su meteoriti per analogia non è difficile estendere ciò a tutti i pianeti sicuramente del sistema solare ma vale per ogni pianeta dell'universo. Le caratteristiche per cui tali componenti sulla terra si trasformarono in vita mentre ciò non avvenne su altri pianeti sono le condizioni soggettive del pianeta la terra disponeva di condizioni favorevoli e delle necessità di sviluppare una natura atta a costituire per la stessa un manto protettivo i deisti non possono seguire questa logica ricordiamo come costoro considerano il pianeta un pezzo di roccia vagante nello spazio attorno ad una fiamma sul quale qualcuno con un colpo di bacchetta magica vuole divertirsi facendo riprodurre esseri per il proprio divertimento è necessario ricordare come nulla che non sia vivo può generare vita la vita non è soltanto una catena di acidi se ciò fosse sarebbe stato facile riprodurre la vita è una carica di energia vitale che in particolari condizioni oggettive riesce a mantenere compatta la propria coscienza di sé sviluppandosi percependo cioè la necessità del proprio sviluppo come necessità fondamentale energia vitale coscienza di sé col bisogno di espansione questa è la vita la riproduzione è solo un aspetto di questo bisogno il pianeta emette dal suo interno allo spazio energie vitale in dosi massicce e in dosi massicce ne riceve dal sole e dalla relazione con gli altri pianeti del sistema solare il compito della natura nei confronti del pianeta terra fu quello di ricoprirlo con un avvolgimento vivo capace di assorbire buona parte dell'energia vitale proveniente dall'interno del pianeta e trasformarla in vita all'interno della natura nel corso di miliardi di anni molti avvenimenti percorsero il pianeta uno fra tutti la scomparsa dei grandi erettili inoltre i sommovimenti della crosta terrestre furono tali da portare alla scomparsa di grandi foreste e interi settori marini pieni di esseri viventi accadde in pratica che il pianeta si ammalava carbone e petrolio come tante pustole infettavano la crosta terrestre la pelle della terra il petrolio e il carbone sono concentrazioni di energia vitale stagnata o energia di morte il pianeta avrebbe potuto intervenire per eliminare l'infezione riportando la superficie della terra nel nucleo e rifondendo il tutto in altre parole dare una rimescolata la carica di energia vitale interna al pianeta era tale da poter senza sforzo riaccelerare l'energia vitale stagnata all'interno della crosta e ritrasformarla in energia vitale libera facendo questo sarebbe scomparsa l'intera natura l'intero processo evolutivo durato miliardi di anni sarebbe stato distrutto in pochi attimi il pianeta non poteva permettersi di perdere altri due o tre miliardi di anni per ricostruire la natura senza essere poi sicuro della riformazione della stessa scelse perciò una via in accordo con la natura favorì una specie particolare poco dotata fisicamente con la necessità per la sua sopravvivenza di modificare l'ambiente più che di modificare se stessa ai fini della propria sopravvivenza questa specie se adeguatamente indirizzata dalle condizioni oggettive imposte nel giro di alcune decine di milioni di anni poteva esaurire tutte le risorse di fossile carbone petrolio eccetera più velocemente di quanto queste si riformino poi una volta bruciate le riserve di fossili la sopravvivenza di tale specie sarebbe stata determinata dalla forza che questa avrebbe saputo trovare al suo interno altrimenti si sarebbe autodistrutta per quanto questa specie saccheggiasse il pianeta saccheggiasse la superficie del pianeta distruggesse intere specie di esseri viventi della natura riducesse intere aree in deserti sabbiosi il suo danno sarebbe stato milioni di volte inferiore a quello che avrebbe fatto il pianeta fagocitando la crosta terrestre inoltre c'era sempre la possibilità che l'essere umano non fosse tanto idiota da distruggere l'oggettività che l'ha generato e gli permette di vivere e prosperare tale operazione tornava a vantaggio della natura o del pianeta della natura certamente sì l'alternativa era il suo totale annientamento ed un suo stop al suo sviluppo come coscienza di sé del pianeta certamente sì una volta liberatosi del pus infettante ed immesso questo nell'atmosfera sotto forma di gas diventava facile ed indolore per la natura e per il pianeta riaccelerarlo nel corso di un paio di migliaia di anni e poi la vita fisica del pianeta annoverava ancora alcuni milioni di anni prima che si riformi e non è detto anche se l'essere umano dovesse arrivare a saccheggiare profondamente la natura questo in qualche modo finito il processo di sfruttamento dei giacimenti fossili si riforma ricominciando il ciclo rimarrebbero sempre nella peggiore dell'ipotesi virus batteri insetti piccoli animali dai quali riprendere il ciclo dell'evoluzione e non è detto se arrivi a tanto può essere che il sistema sociale umano trovi il sistema per impedire al comando sociale di portare la specie all'estinzione i pianeti del sistema solare fanno molto affidamento sull'essere umano per procurarsi una natura che non può attecchire date le condizioni naturalmente con l'aiuto delle mani degli esseri umani sembra che ciò sia possibile da questo emerge la condizione dell'esistenza dell'essere umano che è quella di inquinare il pianeta accedendo alle sue risorse fossili che il suo esaurimento avvenga in 200 anni o in 2000 anni al pianeta non interessa ma alla salute della specie umana si l'essere umano sa perfettamente che la distruzione delle specie viventi nella natura porta il suo stesso indebolimento ma il comando sociale tende a non vedere ciò chiuso nell'illusione della sua onnipotenza recita gli aggettivi della sua immortalità a questo punto la ragione umana è sconvolta come io non esisto ad immagine e somiglianza di un essere assolutamente necessario creatore e signore dell'universo io sono solo un animale della natura dotato di bisogni di mani e voluti in condizioni che erano scopi e fini di un'altra coscienza di sé esatto rapporto dialettico fra oggettività e soggettività dove l'oggettività altro non è che la soggettività di un altro essere eccetera l'essere umano si è evoluto all'interno di condizioni oggettive imposte dal pianeta dal sole e dalla natura di cui è figlio le condizioni per il suo sviluppo sono condizioni imposte attraverso un presentarsi continuo di condizioni oggettive alle quali egli si è adattato questo ricorda la flora batterica all'interno di un organismo umano quando fu attaccato dal virus della polmonite quest'essere umano dovete ingerire forti dosi di antibiotici i quali pur salvandolo danneggiarono in modo gravissimo la flora batterica tanto valeva percorrerla quella via l'essere umano è come l'antibiotico almeno per il pianeta ancora un vacillo della ragione umana di queste cose capace la terra e via a mettersi in ginocchio ad invocare protezione proprio come il comando sociale insegna loro la terra non agì né per il suo bene né per il suo male le due cose non esistono ma per la sua personale necessità in compenso l'essere umano può percorrere la propria via alla conoscenza consapevolezza e attraverso queste trasformarsi diventando eterno possibilità comune anche se spesso le vie sono differenti a tutti gli esseri della natura la terra e il sole sono vivi e per percepirli come coscienze di sé è necessario far uscire i sensi dall'ambito ristretto della ragione alterarli anticamente era più facile il condizionamento educazionale del comando sociale non era così radicato e totalizzante come negli ultimi secoli fino a un paio di secoli fa l'essere umano per sopravvivere doveva mettere più attenzione nel rapportarsi col mondo del quotidiano dall'uso dell'attenzione spesso dipendeva la sua sopravvivenza correvano molte leggende e superstizioni si obietta queste leggende e queste superstizioni spesso sono le interpretazioni distorte elaborate dagli adoratori del Dio unico i quali furono gli iniziatori della radicalizzazione del controllo da parte del comando sociale sui sistemi sociali le singole culture davano nomi ai fenomeni percepiti questi nomi interpretati dai conquistatori perdevano spesso il loro significato originale per diventare dei antropomorfi pronti ad essere denigrati e sbeffeggiati il sole e la terra furono i primi esseri estranei alla natura del circostante davanti alla cui enormità l'essere umano si arrese l'aurea vitale del sole e della terra sono enormi grandiosi nessuno vede l'aurea del sole e della terra si obietta no non è vero il comando sociale addestra gli individui a non vedere l'aurea vitale del sole e della terra il comando sociale oggi come oggi non trae avvallo per il proprio dominio sul sistema sociale dal sole e dalla terra ma lo trae dall'essere assolutamente necessario idea pura della ragione al quale il comando sociale attribuisce e demana il proprio codice morale coercitivo una volta estratto dalla bocca del sistema sociale il dente marcio dell'essere creatore assolutamente necessario rimane il vuoto e il ricordo della puzza di putrido non dicono i cristiani che Dio creò l'essere umano a propria immagine e somiglianza e il Dio creatore era un essere vivo tanto vivo che decine di milioni di individui più interi popoli vennero massacrati in onore del suo trionfo sacrifici umani dei cristiani noi apprendiamo dalla natura come solo la vita dà la vita non perché questa sia creata da quella ma perché solo quella è in grado di cedere la scintilla forse in qualche laboratorio di sperimentazione biologica l'essere umano riuscirà a generare la vita ma non sarà un'operazione meccanica sarà perché l'operatore vi avrà messo qualcosa di suo privandosene si tratterà di sapere se nel far ciò quest'essere umano valutò quanto a lui convenne fare questo si può forzare la natura nella direzione voluta fa parte del gioco quando si creerà dando vita all'inanimato sarà necessario sapere che non si creerà una macchina biologica ma un essere il cui bisogno sarà quello di espandersi e il modo di espansione sarà determinato dalla struttura della coscienza di sé iniziale determinate in quell'essere saprà l'essere umano in quel momento conoscere e valutare ciò che farà la natura dispone di un sistema perfetto al fine di ovviare ad errori nell'evoluzione porta gli errori ad autoestinguersi i tempi della natura sono tempi lunghi quelli dell'essere umano molto ma molto brevi solo la vita dà la vita principio fritto e rifritto la considerazione è questa il sole e la terra come esseri viventi non sono funzionali al comando sociale essi hanno una particolarità intollerabile per il comando sociale si fanno i fatti propri in altre parole esistono finalizzando la propria esistenza alla soddisfazione dei propri bisogni e le proprie necessità al contrario il comando sociale e il dio creatore assolutamente necessario sono molto buoni infatti devono piegare gli esseri umani costringendoli a soddisfare le loro necessità e i loro bisogni quando il sole e la terra e la natura hanno delle necessità o dei bisogni da soddisfare alterano le condizioni per favorire o sfavorire lo sviluppo di questa o quella specie in modo che lo sviluppo o l'involuzione della stessa soddisfi loro necessità sta alla specie e poi trovare le condizioni e l'equilibrio per continuare ad esistere il comando sociale con il suo dio creatore quando devono soddisfare i loro bisogni e le loro necessità devono terrorizzare con l'uso della galera il primo con la danazione eterna il secondo oltre ad un buon numero di armati per costringere altri esseri ad agire nella direzione da essi voluta se gli esseri umani prendessero esempio delle coscienze gigantesche per il comando sociale e il suo dio sarebbero guai in primo luogo si dovrebbe adattare un sistema sociale nel quale gli individui vivrebbero per sé individui capaci di diventare forti ed indipendenti solo per il piacere di diventarlo ed individui che fanno del decondizionamento educazionale un metodo di esistenza il comando sociale preferisce individui in ginocchio e pieni di paure e fobie ma in salute fisicamente parlando per poterli utilizzare come schiavi salariati o carne da macello a seconda di ciò che progetta in quel momento il sole e la terra sono esseri sotto gli occhi di tutti lo sforzo del comando sociale per far credere che siano rispettivamente una palla di fuoco e un ammasso di roccia sono stati enormi spesso queste operazioni gli sono riuscite soltanto nelle città dove gli esseri umani più facilmente potevano essere isolati dalla natura nelle campagne anche con l'assalto delle religioni monoteiste non si è mai scordato il ricordo e la percezione delle coscienze della natura della terra e del sole magari si è dovuto mascherare il tutto sotto il nome di qualche santo o profeta ma mai chi visse nella terra e per la terra cessò di percepire la terra anche se negli ultimi 50 anni la campagna dei paesi industrializzati è stata tesa ad essere trasformata in un deserto con l'immessione di massicce dosi di antiparassiti anticritogamici questo processo ha subito numerose resistenze il comando sociale non può avvallare il proprio controllo sul sistema sociale con il mandato di esseri come la terra e il sole ma è da questi che l'essere umano riceve la sensazione dell'infinito della propria coscienza non è un caso che con essi si identifichi tutte le religioni più antiche sono occulti della terra occulti solari questi non erano occulti di assoggettamento come le religioni monoteiste tendono a far credere adoravano questo o quello era il modo con cui gli esseri umani si rapportavano con le coscienze di sé immense che li circondavano alle quali riconoscevano l'immensità della loro esistenza e la loro capacità di essere fu il comando sociale nel corso della sedimentazione della propria capacità di controllo sul sistema sociale a trasformare questo rapporto in dipendenza trasformando contemporaneamente l'oggetto della dipendenza fu il comando sociale che identificatosi con l'infinito dal quale diceva di ricevere dirittura morali mise in ginocchio le società umane per i propri fini e i propri scopi cosa indicava la coscienza secondo cui il sole la terra la luna la natura i pianeti siano esseri viventi scusate cosa implicava la conoscenza secondo cui il sole la natura la luna i pianeti siano esseri viventi assolutamente nulla per l'essere umano comune tale dimostrazione oggettiva non è facilmente ottenibile quando si agisce nell'ambito della ragione condizionata dal comando sociale si possono soltanto dimostrare ragioni non contrarie a ciò dal punto di vista della ragione in positivo non si prova nulla dimostrare che nulla ostacola tale valutazione non dimostra la correttezza della valutazione si può dimostrare come l'esistenza del sole e della terra e della natura siano condizioni indispensabili per la nascita e lo sviluppo della vita molto più di quanto possono fare gli adoratori del Dio creatore non si può dimostrare come ogni sussulto percepito dalla ragione del sole della terra e della natura siano immediatamente percepiti all'interno delle specie viventi cosa non possiamo fare nell'ambito della ragione dimostrare come il sole la terra e la natura abbiano una coscienza di sé in espansione per conoscere ciò è necessario alterare la percezione sensoria dei cinque sensi facendo uscire dall'ambito della ragione dopo aver limitato e circoscritto gli effetti del condizionamento educazionale imposto dal comando sociale come può il comando sociale dimostrare l'esistenza del proprio Dio creatore non può dimostrarlo può solo imporlo lo impone mediante storie leggende attività terrifica nei confronti di bambini e in posizioni militare nei confronti degli adulti tutta quest'ultima parte nei paesi a capitalismo avanzato è un po' diminuita sotto l'incalzare dell'ateismo positivismo e del pluralismo religioso la sua difesa ultima è un arroccamento attorno alla morale la morale coercitiva delle religioni monoteiste viene imposta a forza e ad ogni altro credo ad ogni altra morale all'ateismo stesso la possibilità del Dio creatore di soccorrere gli indigenti costruiti dal comando sociale è uno dei punti di forza prega 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 Dio ti aiuterà questa capacità del Dio monoteista di intervenire nelle facende umane come per magia o per miracolo è sempre al fianco del comando sociale è stato e tuttora è uno dei giochi positivi preferiti del comando sociale è l'attività dei missionari cristiani nei paesi del terzo mondo scusate agiscono per impedire il riformarsi delle culture aderenti a quelle quelle terre e alla rinascita del benessere dopo che il comando sociale le ha ridotte alla miseria più nera agiscono allevando l'indigenza l'ignoranza e la miseria agiscono affinché i poveri generino figli per riprodurre la miseria combattono accanitamente e con la massima ferocia ogni forma di emancipazione sociale curano le ferite per impedire alla morte di alleviare la sofferenza della miseria ciò piace sia agli esseri autospacciatesi per Dio creatore che ha il comando sociale un Dio creatore per la cui dimostrazioni i preti cattolici e protestanti si riducono al rango di illusionisti sul palcoscenico dei bisogni dei disperati cosa si può fare nell'ambito della ragione non possiamo dimostrare la coscienza di sé in espansione del sole della terra e della natura non possiamo dimostrare o pretendere una loro miracolistica in natura ogni essere debole inadatto soccombe anche nei sistemi sociali dominati dal comando sociale è così solo che quando ciò avviene nella natura è un dato di fatto quando avviene all'interno del sistema sociale dominato da un comando sociale questo provvede a circondare il caso di disperazione di sentimenti di angoscia di invocazione il cui scopo è quello di ottenere consenso al suo operato da parte dei disperati la miseria di tutti i tipi come arma di ricatto nei confronti del sistema sociale coltivare la miseria per coltivare il ricatto la terra il sole e la natura non ha bisogno di miseria né di adesione non appartiene ad essi il detto beati poveri di spirito perché adesso il regno dei cili appartiene al comando sociale se si desidera dimostrare che il sole la terra e la natura sono esseri con una propria coscienza di sé in espansione si può farlo solo attraverso l'alterazione della percezione sensoria spostando l'attenzione dal reale della ragione cioè dalla forma al reale della numenia degli oggetti circostanti dimostrazione di questo nasce dal nostro quotidiano coltivando la coscienza e la consapevolezza la dimostrazione è sempre di ordine soggettivo è incontrare sulla propria strada le coscienze di sé di altre coscienze di altre vie di altri cammini altre vie e altri cammini che contengono la nostra via e il nostro cammino e a che pro questo? allenare l'attenzione significa non solo aumentare la coscienza e la consapevolezza del proprio sé significa aprire quei canali per il reciproco scambio di energia vitale con gli oggetti del mondo circostante con gli esseri del mondo circostante non con la loro forma o con il loro aspetto come considerato all'interno del quotidiano della ragione imposto dal comando sociale attraverso il condizionamento educazionale ma con la loro numenia il loro essere come coscienza in sé mutuo scambio di energia vitale significa aumentare il potere personale scusate significa alimentare il proprio essere il proprio divenire lungo i flussi attraverso i quali tutti gli esseri dal sole alla terra alla natura fino al più piccolo essere fitoplasmatico si sviluppano significa non costringere se stessi a bloccare ogni sviluppo personale entro gli ambiti della ragione del quotidiano condizionato ma limitando l'azione di questo espandere la coscienza della propria percezione solo allora il sole cesserà di essere una palla di fuoco e il pianeta terra un pezzo di roccia vagante nello spazio una parte dell'antica religione egiziana vedeva nel sole la meta delle anime dei morti meta di quelle coscienze che riuscivano a superare la soglia della morte del corpo fisico il sole rappresenta la più grande coscienza di sé del nostro sistema planetario in quello stadio lo sviluppo della coscienza di sé avviene per aggregazione la coscienza maggiore aggrega la coscienza minore la quale diventandone parte modifica la coscienza di sé risultante in relazione dialettica della propria forza e a sua volta viene modificata ed adattata dalla coscienza aggregante in relazione dialettica della propria forza cosa significa in pratica questo che quando una coscienza si aggiunge ad un'altra coscienza la coscienza che ha ricevuto un'altra coscienza non è più la stessa di prima ma è diventata diversa e la diversità è data dalla forza della coscienza che si è aggregata anche la coscienza che si è aggregata non è più quella di prima perché assorbe tutta la conoscenza della coscienza sulla quale si è aggregata in questo caso Castaneda direbbe che l'aquila si nutre della consapevolezza prodotta degli esseri viventi nel corso della propria esistenza non penso che sia la stessa visione mentre nella mia visione c'è l'aggregazione con l'essere sole di esseri che per tutta una vita ricercarono la conoscenza e la consapevolezza anche in rapporto con le coscienze gigantesche e gli esseri umani non sottoposti alla schiavitù salariale avevano più tempo e più modi per sviluppare tale rapporto nel caso della visione Castaneda c'è l'aggregazione da parte forse della natura di coscienze di sé non sufficientemente forti dopo la morte del corpo fisico per giungere all'essere sole o per essere liberi da ogni aggregazione almeno per questa fase di sviluppo della coscienza di sé forse questo ispirò la descrizione dei diversi cieli di esistenza dopo la morte del corpo fisico elaborata dagli ignostici ciò che il comando sociale omette è il fatto per cui la stragrande maggioranza sia degli individui che lo compongono scusate che quasi tutti gli schiavi salariati mai giunsero al sole né alla bocca dell'aquila tanto meno alla libertà ma il loro corpo si disperse nella terra e l'energia vitale rimasta viene dispersa nel vento il comando sociale trae la propria forza dalla rapina dell'energia vitale di chi è sottomesso aderendo ad esso e al suo bisogno di perpetuare le ragioni della propria esistenza pulsione di morte che riproduce e coltiva pulsione di morte così facendo impedisce agli esseri umani di costruire la coscienza di sé oltre il reale del quotidiano impedisce loro di rapportarsi con coscienza di sé al di fuori del ristretto della ragione con le quali poter costruire volendo un rapporto dialettico un mutuo scambio di energia vitale sempre a vantaggio delle coscienze di sé più piccole non è possibile credere e pensare l'essere sole l'essere natura l'essere terra come esseri viventi e consapevoli si possono solo incontrare alterando l'attenzione dei sensi ci si può solo rapportare ogni essere nella via della coscienza di sé ha bisogno di rapportarsi con ogni coscienza possibile dell'esistente in caso contrario è la solitudine quella solitudine inesistente in una cella dove un detenuto è solo 24 ore al giorno ma capace di estendere le ali della percezione oltre ogni muro oltre ogni sbarra mentre esiste fra coloro che aderiscono alla morale e all'etica imposta dal comando sociale solitudine ed impotenza anche nel mezzo di enormi masse di loro simili sordi ad ogni sollecitazione incapaci di sollecitare la minima attenzione per se stessi credere e pensare ad un essere superiore significa adesione a critica a che serve credere in qualche cosa non verificabile si può spostare la verifica dello spazio nel tempo ma non si può spostarla indefinitivamente l'essere umano dispone di una vita limitata nei suoi mutamenti non si può permettere di perdere troppo tempo e l'adesione a critica è mortale non si può credere nella coscienza di sé del sole si può solo incontrare quella coscienza sul proprio cammino molti individui in passato incontrarono tale coscienza la trasformarono in un dio al quale costrinsero sistemi sociali ad assoggettarsi evitando di spiegare loro come potevano percorrere la loro via per rapportarvisi costoro si trasformarono in comando sociale dopodiché trovarono molto più comodo rubare il lavoro di altre mani anziché scambiare lavoro con lavoro costoro provvedettero ad occultare tali coscienze affinché gli individui dei vari sistemi sociali non vi avessero accesso avrebbero potuto costruire idee nuove nuovi progetti potevano pensare di essere uguali al loro comando sociale metterlo in discussione combatterlo sostituirlo limitare il suo lavoro di rapina nei confronti degli schiavi salariati il pianeta e la natura favorirono lo sviluppo dell'essere umano per i propri scopi come per i propri scopi le varie specie della natura si sono sviluppate sta all'essere umano inserirsi nella natura non più solo come un essere da essa proveniente ma come scelta nella trasformazione dopo che la sua percezione è stata bloccata per migliaia di anni sul piano della ragione del quotidiano inserirsi nella natura non per diventarne padrone e saccheggiatore né come adoratore succube della stessa ma come parte integrante svincolato dal comando sociale coercitivo né come incubo né come succube farebbe lo stesso errore sostituendo all'essere assolutamente necessario creatore altri esseri come il sole la terra la natura o un qualche essere antropomorfo non è possibile sostituire un elemento del comando sociale con un altro elemento ma è necessario sviluppare il proprio potere di essere e rapportarsi con queste coscienze di sé come del resto molte altre come necessità incontrata lungo il percorso del proprio sviluppo meglio una professione di ateismo o di scetticismo che inginocchi in adorazione i primi possono costruire il proprio potere di essere il secondo aspetta soltanto la dissoluzione della propria angoscia e solitudine nell'atto della morte del corpo fisico scusate un attimo solo che prendo qualcosa da bere perché lo sforzo non è stato poco quello che vi ho letto è il sole del pianeta e la terra come esseri viventi e come esseri viventi sono tutti gli esseri della natura esseri coscienti sono tutti gli esseri della natura cioè tutti gli esseri della natura sono degli dei ogni pianeta ogni pianeta è un dio ogni stella è un dio ogni essere umano è un dio questo è il concetto ma è un dio nella misura in cui percorre il proprio sentiero usa la propria volontà usa le proprie determinazioni nella misura in cui si fa fatto nella misura in cui tira fuori l'energia vitale che ha dentro il dio che ha dentro la propria volontà la stessa volontà che lo ha trasformato in essere umano che l'ha portato a nascere che ha portato a far morire l'essere feto e a far nascere l'essere umano adulto questo pezzo del pianeta la terra e il sole come esseri viventi ha questo scopo ha lo scopo di dimostrare in maniera abbastanza logica come il superamento delle religioni solari e delle religioni della natura sia stata un'operazione dettata dal comando sociale ed è stata un'operazione fatta apposta per allontanare l'essere umano dalla percezione del mondo ma anche se l'essere umano si è allontanato dalla percezione del mondo il mondo continua ad essere cosciente di se stesso cioè continua a far pressioni sull'essere umano continua a chiamare l'essere umano e chiama l'essere umano non perché lui vuole assoggettare l'essere umano cioè l'essere sole e la terra non assoggettano l'essere umano non è il terrore del dio biblico come descritto ma lo chiamano affinché percorra scusate il proprio sentiero di libertà cioè sviluppi il proprio potere di essere determini se stesso dica io esisto anziché stare in ginocchio anziché essere prostrato anziché essere dentro la gabbia della coercizione ideologica lui cominci a spezzare quelle sbarre cominci a dilatare il proprio esistere per questo motivo la terra e l'essere natura chiamano l'essere umano e questa è la descrizione perché il comando sociale ha avuto bisogno del dio unico o del dio astratto o della divinità astratta o dell'astrazione delle divinità perché in questo modo poteva controllare gli esseri umani se il comando sociale continuava a riferirsi al sole alla terra agli esseri della natura alle determinazioni come divino queste avrebbero agito sull'essere umano per uscire fuori cioè anche se tutti mi dicono vabbè il sole è il dio davanti al quale tu ti metti in ginocchio concentrare l'attenzione sul sole mi porta comunque a liberare la mia attenzione mentre invece se io ti metto la tua attenzione sul Gesù buono che è nato nella povera capana di Betleme la tua attenzione è concentrata sul nulla è concentrata sul vuoto e là ti posso dominare là posso costruire la dominazione là posso costruire l'assoggettamento ma se io ti dico il fiume è un essere sacro vabbè tu puoi tentare di farmi passare il fiume con l'essere sacro ma l'acqua scorse l'acqua chiama la mia attenzione per cui prima o dopo ci sono gli esseri umani che elaborano la propria attenzione proprio chiamati dal fiume proprio chiamati dalla fonte proprio chiamati dalla foresta proprio chiamati dall'albero cioè la necessità della vita della foresta chiama gli individui che la difendono che vivono per la foresta e non che la saccheggiano e basta cioè se le mie divinità sono attorno se io considero le mie divinità come esseri che mi circondano questi esseri mi chiamano se invece le divinità sono pura fantasia davanti ai quali mettere in ginocchio le persone perché a qualcuno conviene l'attenzione è fissata sul nulla è fissata solo per costruire a morte molto bene andiamo avanti ancora scusate ma mi sta un po' seccando allora il problema è questo è la descrizione del mondo circostante dal punto di vista dell'anticristo e dal punto di vista dell'anticristo il mondo che ci circonda è fatto da divinità e noi siamo delle divinità in relazione con le divinità se gli esseri umani sono degli dei c'è una scena bellissima in Ghostbuster 1 il primo film di Ghostbuster dove i quattro chiapafantasmi vanno per far fuori la divinità e la divinità gli chiede sei tu un dio? e lui dice no e allora lo fulmina e l'amico gli dice ma porca miseria se qualcuno ti dice che tu sei un dio devi dirgli di sì questa è la concezione della vita noi siamo degli dei ogni essere vivente ha una scintilla divina perché qual è uno dei motivi per cui le civiltà posteriori le civiltà molto tarde trovarono nel sole la coscienza individuale nel sole la coscienza non sto parlando delle civiltà primitive le società primitive conoscevano perfettamente la coscienza dell'essere sole poi ci furono stati degli appellamenti e delle trasformazioni bene ogni volta che noi alteriamo la percezione e guardiamo un essere vivente la prima cosa che scorgiamo è il colore dell'aurea il colore dell'aurea di un essere è la prima cosa che noi possiamo incontrare bene il colore dell'aurea di un essere vivente ha lo stesso colore dell'essere sole in pratica se noi alteriamo la percezione ed è possibile alterarla in modo abbastanza facile quando si è stanchi quando si è ammalati per chi non lo vuole fare in modo preciso bene l'aurea di un essere vivente è sole è un pezzetto di sole per questo le religioni le religioni diciamo così solari abbastanza recenti quelle che sono a cavallo fra il primo e il secondo secolo dopo Cristo trovano nel sole come un essere vivente perché il sole è dello stesso colore di ogni essere della natura per cui per analogia scopriranno che il sole è un essere vivente questo è importantissimo cioè riuscire a capire che gli esseri sono esseri viventi lo possiamo fare soltanto alterando la percezione tutto il resto tutte le forme di logica per capire queste e quelle sono delle cazzate sono delle cose che non hanno nessun nessun senso o ci sono delle cose di dominazione o ci sono degli istinti di libertà e le due cose sono in assoluto antagonismo bene io qui sto per chiudere la trasmissione in questo momento se qualcuno vuole telefonare fra qualche minuto arriveranno i ragazzi a fare musica ricordo che il numero di telefono radiogramma è 049 700 700 e allora noi abbiamo fatto del libro dell'anticristo abbiamo fatto il vangelo dell'anticristo dove abbiamo parlato dell'universo abbiamo definito l'essere l'entità la natura il quarto stadio per sviluppo della specie umana il quarto livello l'altro mondo abbiamo parlato del luogo d'origine del male che cosa sono le linee di tensione abbiamo parlato della coscienza di sé coscienza del sé che cos'è il bene e il male e abbiamo definito che cos'è l'anticristo poi nella seconda parte abbiamo passato alla via umana al divenire eterni abbiamo parlato del progetto dell'anticristo il mondo circostante che cos'è la verità il potere di essere il potere di avere oggettività e soggettività superiore psichistico superiore psichistico ricordatevi perché sono i due canti del mondo lo psichista superiore e il mondo caccia e ricerca dell'io psichistico il sognare abbiamo parlato chi sono i guardiani e perché il guardiano alcune questioni sulle sostanze chiamate droghe e questa era la via umana al divenire eterni in pratica mentre il vangelo dell'anticristo andava a leggere quello che era l'insieme della cosmologia la visione cosmologica della vita la via umana al divenire eterni andava invece a leggere quelle che sono le cose essenziali per costruire il dio che abbiamo dentro nella terza parte abbiamo parlato della fondazione della libertà abbiamo detto cosa è la conoscenza la dialettica e il divenire abbiamo tentato di definire la teoria della dipendenza abbiamo parlato dell'adattamento soggettivo alle variabili oggettive in pratica abbiamo parlato del tempo il concetto di tempo soggettivo abbiamo parlato dell'attenzione l'attenzione dei sensi abbiamo parlato a proposito dei sentimenti e abbiamo fatto una riflessione di un psichista sul sistema sociale umano la quarta parte invece parla dell'anticristo e il mondo circostante energia vitale e materia abbiamo letto abbiamo letto l'eredità rinascita e coscienza della specie e stasera abbiamo letto sole e pianeti come esseri viventi dobbiamo ancora parlare di abbiamo letto anche cristiani e psichisti attraverso una riflessione dobbiamo parlare di una domanda per i psichisti dobbiamo parlare nascita e conoscenza di esseri slegati alla vita animale e vegetale dobbiamo parlare sul concetto di vittoria e di sconfitta proviamo invece ad affrontarlo stasera visto che non sta arrivando nessuno ed è un pezzo abbastanza breve è un pezzo abbastanza breve non sta arrivando nessuno e nessuno sta telefonando per cui se qualcuno è in ascolto noi li leggiamo sul concetto di vittoria e sconfitta riferito alla via per lo sviluppo della coscienza di sé la vittoria è il risultato finale di una sequenza di sconfitte quando il soggetto affronta l'oggettività vincere o perdere è uguale la vera vittoria consiste nel mettere gli scontri uno dopo l'altro iniziarne uno dopo averne concluso uno non c'è vittoria nello scontro fra oggettività e soggettività ma lo scontro fra oggettività fra soggettività ed oggettività porta la vittoria della soggettività sulla soggettività ancora lo scontro continuo fra soggettività ed oggettività permette alla soggettività di reclamare il potere di essere davanti all'infinito ogni volta che l'oggettività si scontra con una soggettività per lei è sempre comunque una sconfitta sia che vinca sia che perda riferita al piano della ragione se vince disporrà di una soggettività meno matta dalla sua vittoria pertanto non servibili al 100% se perde dovrà costruire un nuovo adattamento soggettivo determinato dall'incapacità di controllo di quella specifica soggettività un'oggettività formata da soggettività meno mate è un'oggettività meno mata sia e pertanto sia che il soggetto vinca o perda nello scontro con l'oggettività il soggetto vince sempre nella misura in cui riesce a rinnovare e a riprodurre lo scontro con l'oggettività al di là dell'essenza numerica della vittoria e della sconfitta dal punto di vista dell'efficacia soggettiva si può affermare che un soggetto travolto dalla sconfitta capace di rientrare nell'arena percorrendo un altro piano sul quale rinnovare lo scontro ottiene una vittoria ben più grande che non quella che se avesse vinto lo scontro stesso la vittoria non consiste nel privare l'avversario di un qualche cosa ma nel presentarsi potente all'appuntamento con la morte del corpo fisico la quale è in grado di mettere tutti d'accordo salvo il modo con il quale i poveracci la supplicano ecco questo era il concetto di vittoria e di sconfitta riferito alla via per lo sviluppo della coscienza di sé ho già detto ho già detto parlando una volta sempre del libro dell'anticristo che per i pagani e gli psichisti e gli apprenditori e gli stragoni la vita è una sfida le sfide non è importante vincerle le sfide è importante praticarle perché perché la sfida è una relazione portata agli estremi cioè che concentra tutto se stessi concentrando tutto se stessi la sfida impone all'individuo di compattarsi di farsi uno e questo farsi uno permette al corpo luminoso di diventare sempre più forte pertanto non si può rinunciare alla sfida si può rinunciare a quelle sfide che sono distruttive ma non si può vivere in un modo diverso che non sia vivere per sfida la sfida è l'essenza stessa con la quale noi costruiamo il nostro corpo luminoso lo compattiamo in pratica lo raccogliamo da ogni cellula del nostro corpo e lo facciamo diventare uno e questo per un pagano per un apprendimento a stragone si vive solo per sfida qualsiasi altro modo di vivere per dolore per sottomissione eccetera sono dei modi di vivere distruttivi perché questo perché la sfida è una contraddizione tirata alle estreme conseguenze bene questa sera non telefona nessuno e non sta arrivando nessuno allora concludo dicendo questo io vi ricordo che sarò in radio giovedì prossimo alle ore 19 farò le primissime due trasmissioni le primissime due trasmissioni che ho fatto nel novembre dello scorso anno non tratterò il libro d'anticristo c'è una variabile che potrei fare potrei raccontarvi una storia una leggenda presa da un è un attimo pronto? sì buonasera ma lei durante il periodo delle fette di natale non potrebbe fare a meno di fare questa trasmissione non ho capito me scusa durante il periodo delle feste di natale non potrebbe fare a meno di fare questa trasmissione perché il vaticano chiude forse? no non è che il vaticano chiude sarebbe bene che il vaticano chiudesse no perché lo disse lei e perché deve ammazzare la gente allora perché chi è che ammazzare la gente? e lei perché mi dice questo? è tutta una sua opinione perfetto ok arrivederci quando l'imbicinità supera certi livelli non merita neanche di essere discussa allora siccome il vaticano non chiude e continua ad ammazzare la gente io continuo a parlare chiaramente molto bene i ragazzi sono arrivati io vi ricordo che sono Claudio Simeoni via delle Vignole 4 Marghera e vi do l'indirizzo dell'istituto Mediterraneo studi politeisti che è casella postale 53 Marostica Vicenza vediamo un attimo pronto? l'indirizzo dell'istituto Mediterraneo studi politeisti casella postale 53 Marostica Vicenza vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 19 a televisione Magia Stragonaria Paganesimo e continueremo il discorso può darsi che se ho tempo magari vi racconterò una storia una leggenda una leggenda sulla conoscenza su come si raccoglie la conoscenza e come si usa bene ragazzi sono arrivati e a rivederci giovedì prossimo grazie a tutti i nostri Grazie a tutti